Cioè ti rendi conto che per un quadro così brutto, ma la storia è così assurda, cioè teneremi conto, come non sono fatti niente, in casa mia, ma guarda che può succedere, ma può succedere, ma guarda che sempre, sempre, a me sempre. Il talisman di tuo piede mi ha dicho, che soy la reina di tus caprichos, io sono l'astello di corazzoni, che si passeano in tus tentazioni, il talisman di tuo piede mi ha detto, che in tua montura caeranno le rienti. Passano 199 euro per essere felici, io me ne vado! Per un quadro, c'è davvero, te lo ricompro nuovo, non so che altro che devo fare, ma hai visto quanto era brutto il quadro, ma per favore, dai, non fare storie. Hai ragione. Vai. Non mi viene. Ok. Ah, facciamolo, continuiamo. Vai. Va, va, va. Va, va.